Famo così, se mi fai mangiare la carbonata più buona della vita mia, te la pago una piotta. Sarà la più costosa della vita tua. Tiè, però è spesa bene sta piotta, eh. Come vedete, il colore è perfetto e l'aspetto è veramente succoso. Andiamo a notare la cremosità. Eeeh, ragazzi, importante, la crema c'è, la crema c'è. Testa del guanciale, croccante e non bruciato. Assaggiamo. Non lo so, quasi mi dispiace che sia così buona.